Io stamattina mi sono messa la sua maglia, mamma stirami la maglia, la sua spillina, il regalino che mi ha fatto, il suo deodorante per avere la percezione che esista ancora. Ma io stamattina che non ho chiuso occhio, aspettavo che lui girasse le chiavi nella toppa. Devono cambiare le leggi, un ragazzo di 16 anni che esce con una pistola ha contezza di quello che fa, esce per sparare. Non è un ragazzino, non è un minore, il minore è quello che sta a casa con mammina, che mammina gli prepara il brodino mentre lui guarda i cartoni animati. 16 anni con la pistola e con precedenti penali deve avere una pena esemplare perché ha ucciso un ragazzo musicista, bello come il sole, talentuoso, amato da tutta Napoli. Che gli amici dicevano Giorgio abbiamo bisogno del Giorgio Pensiero, risolvici questo problema. Il suo telefono squillava, lo volevano tutti.